bella raga benvenuti in questo nuovo video e di questa nuova serie anche perché serie non lo so forse è un video momentaneo oppure sarà una serie non lo so ma comunque ho voluto cominciare questa serie su Sliterio perché onestamente mi piace Sliterio ci ho giocato un po' di volte anche dal telefono di un mio amico e mi piace davvero tanto quindi vorrei vorrei restare vorrei giocare a questo a questo gioco ieri non ho pubblicato video per il semplice fatto che ne avevo registrato uno ma era troppo lungo e non mi sentivo di pubblicarlo e quindi semplicemente non ho voluto pubblicare video dai vabbè però ma come è possibile che mi ha ucciso lui avrei dovuto ucciderlo io buonoso vabbè comunque il mio nickname è pepon games ovviamente per il nome del mio canale che tra l'altro ho cambiato per chi non lo sa per chi non lo sapesse oddio questo è gigante madonna madonna se lo uccidono aspetta io voglio stare dietro a questo gigante perché madonna quanto ho rischiato perché se lo uccido madonna mi prendo un bel po' di soldi eh soldi oh madonna 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 dai me l'ha fregati pure madonna aspetta 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 no dai volevo correre per darglielo in faccia madonna dai madonna cara vabbè comunque lo scopo credo sia diventare quello più grosso quello più grosso oddio madonna per quanto per quanto stavo perdendo quanto stavo perdendo oddio quanto è gigante madonna quanto è gigante questo madonna come cavolo devo fa per raggiungerlo no vabbè incredibile eh dai ma sono un idiota anch'io però eh c'è dai non è possibile c'è altro c'è uno che si chiama hallo 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 se vedete sopra lì madonna che no che nickname allora vediamo se riusciamo a fregare questo qui che non è tanto grosso però almeno qualcosa dai madonna il problema è che è un gioco che può sembrare facile ma in realtà non lo è tra l'altro che ho detto volevo dire facile ho detto facile vabbè comunque è un gioco che può sembrare facile ma in realtà non lo è anzi è veramente abbastanza difficile anche se è carino come gioco eh dai però se sì sì o un po' me lo dai a me no dai madonna 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 se muore questo rosso dai devi morire rosso deve morire quello rosso dai madonna come mi ha fregato però eh madonna però non mi ricordo se anche da piccolo puoi tipo camminarti ah no da piccolo no perché non ci riesci nel senso non puoi dai 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 non si trova nessuno uno grosso anzi aspetta che ammazzo questo oh qui c'è un bel po' di oddio questo è gigante quello nero quello nero raga è gigante madonna come lo puppi madonna madonna è morto anche lui madonna e dai però dai veramente dai però madonna mi viene da ammazzarmi dai veramente se è messo davanti mi ha fregato tutto e poi mi ha ucciso anche a me ma non ci credo io che ladro mi ha pure fregato tutta la roba lì madonna vediamo se trovo qualcos'altro uh madonna madonna questo no dai volevo fregarlo dai madonna volevo fregarlo io invece mi ha fregato lui madonna e non è facile può sembrare facile sto gioco ma in realtà non lo è dai 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 se solo trovassi uno grosso ma proprio grosso grosso di sopra non c'è nessuno a quanto vedo meglio io nel frattempo mi prendo un po' di questi per diventare più grosso oh madonna se lo prendo questo madonna non è tanto grosso però va bene lo stesso oddio stavo morendo vieni qui dai dai no lo devo fregare no no non ci credo dai mi è fregato lui ma non ci posso credere dai non ci posso credere madonna dai incredibile però è oh cos'è quello di prima è morto madonna come lo pupi come lo pupi come lo pupi ah no questo forse era quello di prima però adesso io sono più lungo di lui allora dobbiamo cercare di fregare questo perché se freghiamo questo è fatta raga cioè non è fatta perché non è che diventiamo giganti tipo come questo però perlomeno no madonna come stavo morendo madonna oh grazie mille grazie mille dai se questo muore madonna mia è fatta praticamente minchia gigante dai se muore è fatta solo che sarà difficile ammazzarlo madonna se questo lo circonda no ma non ce la faccio sono piccolo per circondarlo è più grande lui ecco grazie madonna che idiota che sono mi sono fatto circondare come un idiota aspetta che se riesco a fregare questo qui grosso non è poco eh il problema è che quando si cresce si può correre però non si può correre per molto tempo perché altrimenti poi eh madonna questo mi circonda dai no eh dai madonna ma lui così grosso fa cercare uno piccolissimo come me ma lo vedi che sono stupidi allora cioè in realtà stupidi non tanto perché se fossero stupidi non sarebbero così grossi anche se in realtà sono stupidi quelli che si fanno uccidere da oro eh dai madonna madonna che infami che mi circondano però questa è una tattica che se magari diventasse un po' grosso io potrei usare solo che dato che sono minuscolo se solo riuscissi a prendere questo madonna sarebbe fatta dai oddio 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 raga no dai ma non l'avevo toccato madonna se non sarei morto mi sarei preso tutta l'esperienza di quello madonna dai come sono dai c'era ancora qui questo è morto eh sono morto anch'io madonna madonna cara madonna ovviamente mi chiamo pepon games che insomma sono io dai non c'è nessuno qua c'è questo oh madonna come l'ho fregato dai se riesco se riesco a fregare questo dai dai raga dai raga voglio fregare questo dai ti prego dai ti prego no non ci credo non ci credo rega no madonna che idiota che idiota raga madonna dai volevo fregare quello madonna cara madonna cara dai no dai ma non ci credo vabbè non me la prendo tanto perché tanto ero piccolo ero piccolo piccolo voglio anche vedere se riesco magari a cambiare la skin magari una più figa che ne so oddio madonna questo è gigante oh qua c'è l'esperienza di qualcuno ma non morto oddio madonna per quanto madonna questo madonna questo eh grazie ma questo si frega tutto quanto vabbè niente raga mi sa che per questo episodio è tutto raga mi raccomando se vi è piaciuto il video lasciate like iscrivetevi al canale e direi che per questo video è tutto raga noi ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti